Immagino che alla domanda se vi piace il mare tutti rispondono sicuramente sì ci piace moltissimo, lo amiamo parecchio, non ho mai sentito nessuno che odia il mare ma anche io lo amo moltissimo, però vorrei motivarlo diversamente quella è una questione di pace interiore per me, perché quando arrivo a mare si placano le tensioni quello è come se ti entrasse dentro, una specie di respiro che poi è il profumo, è l'odore, è anche il rumore è il colore stesso nei momenti topici della giornata, all'alba oppure al tramonto quello ti entra un po' dentro, ti invade, è un po' questo che mi fa la differenza rispetto agli altri posti è il motivo per cui poi lo preferisco a qualsiasi altro posto cammino volentieri in montagna, mi giro volentieri le città del mondo e vado pure all'esplorazione dei deserti che amo tantissimo ma il mare resta però un'altra cosa, senza contare che c'è un mondo subacqueo, sconosciuto ai più che è davvero straordinario, la prima volta che sono sceso in una barriera corallina ho pensato che non esisteva niente di più bello al mondo ed è l'unica struttura che gli organismi viventi costruiscono sul pianeta da quando c'è la terra forse l'organismo più persistente, naturalmente si tratta di un organismo coloniale enorme il mare ti rilassa, ti rimette in pace con te stesso, ti sostiene, ti dà nutrimento, a noi non più tanto effettivamente e ti fa pensare e riflettere, ecco forse questo è l'aspetto più importante lo spunto di riflessione che ti consente che è una riflessione magari su quello che è il tuo, ma poi prima di tutto ti costringe e ti obbliga a fare i conti contro te stesso